Per la serie luoghi d'autore oggi parleremo della Trieste di Italo Svevo o meglio possiamo dire della Trieste di Ettore Schmitz. Cominciamo. Ettore Schmitz di fatto nasce a Trieste nel 1861 e muore nel 1928 anche se la morte avverrà in un incente stradale lontano a Trieste però possiamo dire che tutta l'esistenza di Ettore Schmitz è stata un'esistenza trascorsa nella città di Trieste. Vediamo un pochettino allora che tipo di città ha vissuto il nostro autore. Fino alla prima guerra mondiale la città di Trieste era sotto l'impero austro-ungarico quindi quando Ettore Schmitz nasce, nasce una città che non è italiana. Successivamente, il novembre 1918, la città verrà occupata dall'esercito reggio italiano e poi nel 1920, precisamente il 12 novembre, verrà siglato il Trattato di Rapallo con il quale Trieste diventa una città a tutti gli effetti italiani. Quindi Ettore Schmitz vive nella sua adolescenza e gran parte della sua esistenza in una città austro-ungarica e poi, a parte finale della sua vita, gli ultimi anni, in una città che è italiana a tutti gli effetti. Ora andiamo a vedere un pochettino qual è la situazione di Trieste sotto l'impero austro-ungarico. Sotto l'impero austro-ungarico la città di Trieste era la terza città, dopo viene Praga, quindi è una città molto molto importante. Dal 1719, per volontà di Carlo VI d'Austria, era Portofranco, quindi la casata austriaca scommette sul porto di Trieste dandole appunto questa caratteristica di essere Portofranco, quindi una serie di agevolazioni per quanto riguarda l'arrivo delle navi in porto e una serie di operazioni che trasformeranno il porto di Trieste di fatto in uno degli scali più importanti tra quelli europei e il più importante nel Mediterraneo. Quest'operazione verrà condotta da Maria Teresa d'Austria, che insisterà e scommetterà moltissimo sul porto triestino. Questa situazione permetterà allo sviluppo in città di importantissime attività economiche, bancarie, assicurative, e dal palazzo della Borsa, quindi l'istituzione della Borsa, e tutta una serie di attività collegate naturalmente al porto e che faranno i Trieste, come abbiamo detto, una delle città più importanti dell'impero austro-ungarico. Ma Trieste non sarà soltanto un polo importante sotto il profilo economico, bancario e assicurativo, ma sarà anche una città multietnica e questo grazie all'editto di tolleranza promulgato a Giuseppe II tra il 1781 e il 1782. In base a questo editto Giuseppe II concedeva la possibilità ai membri di diverse comunità religiose di professare la loro religione, di poter accedere alle cariche amministrative e alle imprese economiche. E questo fece sì che tantissimi ebrei, greci, armeni e turchi, provenienti fondamentalmente dall'impero turco, andassero verso Trieste. Ma si tratta anche di una migrazione di imprenditori, cioè persone disposte a scommettere su attività economiche vere e proprie. E questo è stato possibile perché un po' da sempre la città di Trieste è stata una città multireligiosa, nel senso che alle chiese cattoliche e alle sinagoge si sono anche aggiunte da tempi molto lontani le chiese luterane. E a queste tre confessioni religiose si è aggiunta anche una chiesa per i greco-ortodossi e una chiesa per i serbo-ortodossi. Di fatto quindi questa città di Trieste risulta per la sua storia più vicina alla cultura mitteleuropea che a quella italiana. Infatti se noi andiamo ad analizzare la vita di Ettore Schmitz o anche l'opera di Italo Svevo, di fatto noi ci rendiamo conto come la presenza della cultura mitteleuropea sia stata fondamentale. conoscenza, l'incontro con opere come quelle di Musil, come per esempio quelle di Joyce, tanto si sono potute realizzare in quanto appunto Ettore Schmitz, o Italo Svevo come vogliamo chiamarlo, e vissuto in questa città così è profondamente aperta a qualsiasi istanza e soprattutto a qualsiasi tipo di cultura. È una cultura soprattutto legata a diciamo il centro dell'Europa. Ma allora Trieste è diventata italiana perché è stata conquistata da italiani? Oppure c'era qualche idea, qualche movimento culturale che spingeva verso l'Italia piuttosto che verso il centro dell'Europa? Allora possiamo dire che evidentemente l'impero nostro Ungarico ha perso la guerra e quindi di fatto Trieste è diventato un territorio di conquista. Però allo stesso modo possiamo dire che c'era a Trieste una importante comunità italiana, comunità soprattutto culturale, che si riuniva intorno al salotto di una poetessa, Ghis, Tagliapietra, Cambon, i cui intellettuali avevano insomma come luogo di incontro associazione culturale Minerva e che avevano come giornale di riferimento per quanto riguarda le idee politiche l'indipendente. E già il titolo, già dal titolo comprendiamo quale era la posizione della comunità italiana all'interno della città di Trieste, ma andiamo a vederlo nello specifico. L'indipendente appunto, dalle pagine, insomma, sul giornale faceva di tutto perché Trieste potesse essere annessa all'Italia. In particolare è sospinta questa idea di annessa all'Italia dalla borghesia mercantile, molto forte nella città triestina, che era andata in, diciamo, un conflitto con la comunità slava e soprattutto la borghesia mercantile italiana aveva reso, aveva, che pensava che fosse responsabile di questi attriti con la comunità slava l'impero austro-ungalico, o che comunque l'impero austro-ungalico non facesse molto per poter risolvere e quindi appianare questi attriti. Ecco, queste ragioni spinsero non solo l'esercito reggio a conquistare Trieste nel 18, e questo può essere semplicemente una conquista territoriale in un contesto di guerra, ma soprattutto spinse naturalmente i politici italiani a chiedere con forza l'annessione di Trieste all'Italia con il trattato di Rapallo.